Siamo pronti, con bricola un po' del mioch, però spicca, spicca, uno su tutti, pubblicità, sponsor, vai, Pit Stop Cafe, sponsorizzerà questa giornata di assaggi, brassicoli, in quel di Iseo, brassicoli, un po' più figo. E niente, adesso sono tutti lì, perché una ha detto che non è vestita da figa, una sta fumando. Una non sa che i genitori fuma, ecco, non diciamo chi, non sa che i genitori fuma. E basta. Fatti un mix. E una ragazza è la tenda, e niente. Questo video va su YouTube? Sì, se lo monta, eh. Lo? Non monta. Monta. Allora, ci hanno detto che lungo, lungo, ma che si dice? Lungo e lungo lago. Lungo e lungo lago. Lungo e lungo lago. Lungo e lungo lago di Iseo, c'è una mostra di quadri, e a tal proposito la manifestazione dentro, dentro, dentro. Si chiama Iseo Dipinta, ospiti di Gin Marchesani. Non so se ti prendi. E adesso? Ah, così va. Sì. Che lontuato. Bene dai, domenica 6 maggio 2018, oggi pomeriggio andiamo a visitare Iseo Dipinta, che non è, come diceva la Sara, una mostra di quadri, ma una manifestazione di birre artigianali. Quindi cosa faremo? Verremo, mangeremo. E al massimo una piccola. Una piccola, poi acqua frizzante, perché vogliamo esagerare. Poi andiamo a vedere un po' di quadretti. Ci vorrà quanto? Mezz'oretta, 40 minuti. Mezzuranselà. Un'ora e mezza parcheggià. Due ore. E poi torniamo indietro. Esatto. Bene, partiamo. Ciao. 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 la Sara ci aveva ragione i quadri ci sono veramente bastardo Gin c'hai illuso è di pinta tutto attaccato non è di pinta ma è di pinta proprio dov'è la birra? me la pagherai la Harvard la fatta la vita la chai la fatta la fatta la chatta la fatta la fatta la fatta Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Se volete venire chiedete di gin vi danno la birra gratis. Se volete venire ci penso a gin. E se c'è la goccia è gin. Infatti oggi piove. Non la vi ha preso tu? Non la vi ho preso tu? Non la vi ho preso tu? Non la vi ho preso nessuna. bene anche oggi è andata il tempo ci ha graziato per fortuna ha piovuto poco a parte la birra e la compagnia è stata una bella giornata ringraziamo ancora pstop caffè per la sponsorizzazione e se vi è piaciuto il video lasciate un mi piace qui sotto o registrativi al canale ci vediamo alla prossima ciao 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 Ti ricordo che magari tu in suocero lì che ti guardo la telecamera. Grazie a tutti.